Ehi, scusami, ti volevo dire una cosa a proposito delle sceneggiature degli ultimi mesi. Ecco, se mi fai anche la cortesia di riferirlo ai tuoi colleghi sceneggiatori. Baffanculo! 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 Brutta merda di uno sceneggiatore avido bastardo! Sei un pagliaccio, sceneggiatore cane, che ruba il lavoro a quelli bravi. Quanti lavori sei? Quante case ti sei comprato? Tu è brutta merda sceneggiatore di Capalbio di Stafaba! Attaccate al cazzo! Al cazzo te ne devi attaccare! Hai capito? Mamma mia la buonezza che ho fatto!